Mera spiritualità, perché il concetto di fiamma gemella è un concetto che viene espresso un po' da tutte le tradizioni, è molto interessante conoscerlo, ma poi cercheremo di capire, che poi è la cosa più importante, come comprendere se si è in questo stato di entanglement con una persona e se una persona può essere la nostra fiamma fondamentalmente, quella che viene chiamata fiamma o fiamma gemella. Quindi cerchiamo di capire, di comprendere un attimino come possono, cosa sono questi concetti e come possiamo scoprire. Salutiamo Gina Decazza, la nostra Gina Decazza, mi raccomando fai il tuo lavoro Gina, sai che hai un autostipendio da 0 euro al mese, quindi cerca di fare bene il tuo lavoro. Salutiamo anche Carla Cardoni o Cordoni, ciao Carla. Allora, allora, ricordo a tutti naturalmente che se volete diventare moderatore o moderatrice del canale potete abbonarvi al canale. Salutiamo la nostra Sissi, potete abbonarvi al canale, riceverete la chiave e poi ci sono altri abbonamenti, basta cliccare sul tastino abbonati e ti puoi abbonare. Allora, la nostra Sissi, nonché Marianna, una vecchietta di 87 anni, la nostra Marianna 87, una vecchietta di 87 anni. Pensate che questa vecchietta 87enne sta ancora a smanettare sul computer, quindi mi fa piacere vedere donne così anziane, 87 anni, che ancora smanettano sul computer. Bene, bene. Allora, cerchiamo di capire un attimino che cos'è il concetto di fiamma gemella e che cos'è il concetto di entanglement. L'entanglement è un concetto che proviene dalla fisica quantistica. La fisica quantistica, ovviamente, diciamo, studia il concetto di entanglement. Tra l'altro è interessante, no, questo concetto, perché smanetta sulla VPN, ok. Adesso è a posto, Sissi? Adesso è a posto? Dimmi se è a posto rapidamente, se si sente bene. Dimmi se si sente bene, Sissi! Fai prima il tuo dovere che salutare! Ok, salutiamo la carampagnocca Perotti. Allora, tra l'altro, questo concetto di entanglement venne elaborato anche da Einstein. Infatti si chiama, diciamo, anche paradosso EPR, perché sono tre scienziati che l'hanno ideato. Uno è E, sta per Einstein, l'altro è Perosis e l'altro è Rosis. E, ovviamente, questo ti si sente ovunque. Bene, questo è un concetto importante. Grazie, grazie, Sissi. Questo è un concetto importante perché Einstein, in realtà, con la famosa frase Dio non gioca a dadi con l'universo, Dio non gioca a dadi, qualcosa, lui negò sempre i presupposti della fisica quantistica, ma in realtà fece una scoperta fondamentale della fisica quantistica. Infatti passò poi la seconda parte della sua, diciamo, carriera accademica nel cercare di scoprire come la fisica quantistica non avrebbe potuto funzionare. Invece la fisica quantistica funziona, funzionava. Fu uno dei più grandi errori di Einstein, praticamente. Salutiamo la capretta Rosi. Allora, l'entanglement è un concetto mediato dalla fisica quantistica che può essere metaforicamente applicato alle dinamiche delle fiamme gemelle. Metaforicamente, nella fisica quantistica l'entanglement si riferisce a una connessione profonda, immediata, non locale, tra due particelle che rimangono legate tra loro. Questo è fondamentalmente indipendentemente, diciamo, dalla distanza che le separa. Cioè queste due particelle sono collegate tra loro, quasi telepaticamente, indipendentemente dalla distanza. Possiamo anche distanziarle una in una galassia, l'altra nell'altra galassia. Tutto quello che succede su una galassia, su una particella, si riflette sull'altra. Ovviamente è stato sperimentato. L'entanglement, tengo a precisare che non è un'invenzione, diciamo, un qualcosa di fisica teorica. Sapete che la fisica, ci sono i fisici teorici che elaborano, salutiamo anche Sabina, i fisici teorici elaborano delle, come possiamo dire, teorie, ma fin intanto che non vengano verificate dai fisici sperimentali, restano teorie. Ebbene, nel Tenglement è stato sperimentato più volte. In che modo l'hanno sperimentato? Ma semplicemente utilizzando una proprietà quantica di due elettroni, che sono lo spin, che metaforicamente ha un po' il senso di rotazione su se stesso. Quindi c'è un principio, si chiama principio di esclusione di Paoli. Salutiamo Giorgio Scano, che dice che due elettroni sullo stesso orbitale, diciamo, devono avere spin differenti. Per cui, una volta che questi due elettroni, salutiamo anche Danilo, entrano in collegamento, entrano in contatto, quindi si connettono tra loro, quindi questa connessione si chiama in Tenglement, appunto, anche se dopo li separi, se fai variare lo spin di uno, istantaneamente varierà lo spin dell'altro. La cosa interessante è proprio l'istantaneità, che poi è il concetto di telepatia. Noi siamo in contatto telepatico con le persone. Nel Tenglement, secondo me, da un certo punto di vista, può spiegare un po' la telepatia. Salutiamo anche la nostra Green Athena, Green Apple. Può spiegare un pochettino la telepatia, perché quando due particelle sono in Tenglement, è come se comunicassero telepaticamente. Cioè, noi sappiamo, no, dalla teoria della relatività generale, sempre dello stesso Einstein, che le informazioni nello spazio si muovono a una velocità molto elevata, ma comunque finita, non infinita. È la velocità della luce, che è 3 per 10 all'8 metri al secondo. Mentre invece, questa comunicazione nell'entanglement è istantanea. Cioè, tu vari il senso di rotazione di un atomo e istantaneamente varia il senso di rotazione dell'altro. Sapete che, se ad esempio, se si spegnesse la luce del Sole, noi riceveremmo, diciamo, in realtà i raggi solari ancora per 12 minuti, perché 12 minuti è il tempo che la luce impiega dal Sole ad arrivare sulla Terra. Quindi, cosa significa questo? Significa che la velocità della luce è finita. Mentre invece, se mettessimo un elettrone sul Sole, la trasmissione dell'informazione tra queste due particelle sarebbe istantanea. Come se le particelle fossero collegate. Quindi, questo ricorda molto le fiamme gemelle, diciamo così. Ricorda molto l'amore, ricorda molto la telepatia. Tra l'altro, sarà capitato a molte persone, quando siete in connessione profonda con un'altra persona, non dico che potete percepire, potete percepire magari anche lo stato d'animo. Se ci alleniamo, possiamo anche percepire lo stato d'animo di quella persona. Possiamo magari creare delle coincidenze significative. Quello che Jung chiamava, quello che Jung chiamava, come possiamo dire, sincronicità. Anche la sincronicità si sente, Esatto, esatto. Non è che voglio dare una spiegazione tecnica, Danilo. Non è che voglio dare una spiegazione tecnica universitaria o cosa. Sto parlando, diciamo, veramente in modo tale che possano comprendere tutti. Stefano, Danilo. Chissà perché ti ho chiamato Stefano. Comunque, ci sarà un motivo, ci sarà, come possiamo dire, un motivo anche perché ho detto Stefano e non Danilo. Allora, un entanglement, sarà un entanglement. Comunque, è importante, Beh, ad esempio, anche, ad esempio, diciamo, la fisica quantistica c'è un altro concetto interessante che è l'effetto tunnel, no? L'effetto tunnel è un altro concetto interessante di fisica quantistica. Tu, ad esempio, è come se tirassi una pallina da tennis contro un muro e ogni tanto una pallina passa dall'altra parte. Ma questo è un altro film. Allora, quindi, perché è abbinato questo concetto di entanglement al concetto di fiamme gemelle? Perché quando tu entri in connessione profonda con una persona, entri in una sorta di entanglement, i tuoi stati d'animo, bravo, bravo, Scanu, i tuoi stati d'animo sono connessi tra loro, i tuoi stati d'animo sono, diciamo, collegati. Cioè, quando tu... Beh, sì, tra l'altro c'è un libro molto interessante perché forse è interessato di queste cose. Ce ne sono due che vi consiglio abbastanza potabili. Uno è il Tao della fisica di, mi sembra, Frank Capra e l'altro è la fine del tempo di Barbour. Perché anche il tempo è un concetto molto interessante. Noi in alcuni casi possiamo bloccare, possiamo fermare il tempo, però ne parlerò in un altro video, sennò non posso mettere troppa carne al fuoco. Quindi questa connessione, l'entanglement, trascende il tempo e anche lo spazio, perché sapete che spazio e tempo sono collegate. Con le particelle, diciamo, che reagiscono simultaneamente. Cioè, quando agisci su una, simultaneamente agisci sull'altra, come se fossero la stessa particella. Ora, focalizzatevi su questa frase. Salutiamo la nespola. La fiamma gemella è come se fossero la stessa particella. E la fiamma gemella ha questo concetto. È come se tu fossi la stessa anima dell'altra persona. Infatti, qual è il simbolo della fiamma gemella? È una fiamma che ha, che è da distinguere nettamente col concetto di anima gemella. L'anima gemella è un legame carnico molto profondo, fondato però anche sul bene e sul male. Un'anima gemella potrebbe essere anche il tuo carmificio. Un'anima gemella potrebbe essere una persona che ti infligge una sofferenza. Praticamente l'anima gemella è il riflesso del tuo karma che si manifesta in una persona. Mentre la fiamma gemella è un qualcosa di diverso. La fiamma gemella trascende totalmente questo. La fiamma gemella potete rappresentarla come una condivisione di anima. La fiamma, infatti, se guardate come è fatta una fiamma, una fiamma è fatta da una radice e più due, normalmente due, ramificazioni. Se a voi vi è capitato di, che ne so, di accendere un fuoco, di vedere un fuoco in un cammino, ad esempio, normalmente si può vedere che la fiamma ha comunque una radice comune, ha una radice comune, ma poi ci sono tante ramificazioni. Come sta facendo vedere la nostra Rosi con le sue emoticon, vedete, c'è una radice comune. Oh, salutiamo la nostra Chiaretta Palma, che quando arriva Chiara Palma, che sarebbe la stella del mattino, o Fusca Sissi, che è la nana bianca. Scherzo, scherzo, ovviamente, sono una bella copiata. Sissi è Chiara, Sissi è Chiara. È quasi come Sesso e Samba, Sesso e Samba, Sissi è Chiara, Sissi è Chiara. Abbiamo fatto una nuova canzone, Sesso e Samba, Sesso e Samba, e invece facciamo Sissi è Chiara, Sissi è Chiara. E comunque, quindi, questo è un punto fondamentale, è un punto fondamentale questo. Il punto fondamentale qual è? Il punto, devi fare assolutamente lo show, Sissi è Chiara, Sissi è Chiara. Il punto fondamentale qual è? Che quando parliamo di fiamme gemelle, ci riferiamo a due anime che sono destinate a condividere un legame estremamente profondo. In realtà, più che due anime, è la stessa anima che si divide fondamentalmente, la stessa anima che si divide, ma restano in contatto profondo. Ovviamente, sono due corpi diversi, sono due menti diverse. Quindi, con la nostra fiamma gemella, non è che siamo la stessa persona, ovviamente, siamo due persone diverse. Siamo due persone con una mente diversa, con qualcosa di diverso, ma in profondità, diciamo, siamo strettamente collegati, cioè il collegamento è più profondo. Queste due anime si dice che siano proprio lo specchio una dell'altra, e riflettono sia la luce, sia l'oscurità, sia la virtù, che le ferite. Proprio come le particelle in entanglement, proprio come le particelle in entanglement, le fiamme gemelle restano connesse a livello profondo. E quello che provi in profondità una, in qualche modo lo trasmetto all'altra, nel momento in cui si crea l'entanglement. E come si crea questo famoso entanglement? Beh, interagendo con la fiamma gemella. Noi non sempre, in ogni vita, troviamo la fiamma gemella. La fiamma gemella si ripresenta di vita in vita. Non è detto che la ritroviamo in ogni vita. Potrebbero passare anche diverse vite, secondo le tradizioni, senza entrare in contatto con la nostra fiamma gemella. Ma quando la incontriamo, allora la riconosciamo. La riconosciamo perché è un legame profondo che si crea con questa persona. La fiamma gemella ha il compito di farti vedere delle parti di te, esattamente, come diceva Carampagnocca, ma ha anche il compito di portare gioia e felicità nella tua vita, fondamentalmente. Cioè ti fa vedere le parti belle di te, a differenza della fiamma gemella che ti fa vedere anche le parti brutte, fondamentalmente. Quindi l'anima gemella potrebbe essere il tuo carnefice, la fiamma gemella mai. La fiamma gemella è un'anima con la quale sei in entanglement, uno specchio, che riflette le tue parti più profonde, ma sempre a fine evolutive. Diciamo che in tutte le tradizioni spirituali l'essere umano viene visto come un ente in evoluzione, fondamentalmente. Quindi, una volta che tu hai incontrato, hai conosciuto questa fiamma gemella, si crea un legame profondo, per cui ogni volta... Cioè, significa che vai in entanglement, no? Perché non è detto che la fiamma gemella tu debba per forza incontrarla, come dicevi, in una vita. Ci può essere, non ci può essere. Potresti non incontrarla. Nel momento in cui avviene questa connessione, cosa succede? Succede che, indipendentemente dalla distanza, indipendentemente da tutto, si crea una connessione profonda. E questa connessione è così forte che le emozioni, i pensieri, le esperienze di una fiamma possono essere percepite dall'altra fiamma in modo immediato. Potremmo definire quasi telepatico. La telepatia non è che non esiste, sì, ghiaccio e neve che goduria. Poi, questa qui dice ghiaccio e neve. Appena ti do due... ti sputi in un occhio, praticamente, se tu appena viene il freddo inizia a lamentarti che fa freddo. Perché voi siete così? Voi carampane? Siete fatte così. Quando fa caldo, vi lamentate che fa caldo. Quando fa freddo, vi lamentate che fa freddo. quando la temperatura è una temperatura mite, vi lamentate, che non fa né caldo né freddo. Eh, ma non fa né caldo né freddo. Cos'è questa temperatura? Né caldo né freddo? Ah, a me piace quando è caldo o freddo. Poi quando è caldo, a me piace quando è freddo. Quando è freddo, a me piace quando è caldo. Carampane. Siete due carampane. Siete... No, siete solo carampane. Eh, ma io fate... Eh, ma io fa caldo. Eh, ma io fa freddo. Eh, quindi, questo è un punto fondamentale, no? Questa connessione è così forte che si crea. Quindi il viaggio delle fiamme gemelle è un viaggio molto intenso che può portare un forte senso di unità. Il viaggio delle fiamme gemelle è un viaggio nella dimensione dell'amore, è un viaggio nella dimensione comunque della gioia, nella dimensione del benessere, nella dimensione del piacere. Eh, apparentemente le fiamme gemelle sono disunite, ma in realtà sono unite perché hanno una radice comune, hanno la radice della fiamma che è in comune. Questa separazione, che può avvenire, diciamo, per diversi motivi poi, in realtà non avviene mai fondamentalmente. perché, come nell'intenglemente, il... una coppia gemella, Rose e Danilo, ah esatto, Rose e Danilo, beh, una coppia gemella, una scoppiata gemella. Rose e Danilo, Rose e Danilo, Rose e Danilo, non lo sai, Rose e Danilo, Rosi, hai trovato Danilo, sarà il tuo, sarà il tuo orso. Beh, potremmo fare questa coppiata, Rose e Danilo. dove sei Danilo? Di dove sei Danilo? Di dove sei Danilo? Di che parte dell'Italia sei Danilo? Vabbè, vediamo in attesa che Danilo ci... Ro... Ebbè, Roma e Rose e Milano, Roma e Milano, ti metti sul Freccia Rossa, vai a Milano, dove sei? Tu sei a Milano. Tanto poi Rose è sempre nella sua fantasia, è sempre a Monte Carlo, quindi Danilo, per incontrare Rose hai due possibilità, o pigli il treno e te ne vai a Milano, oppure fai un viaggio di fantasia, chiudi gli occhi e te ne vai su uno yacht a Monte Carlo, perché Rose la trovi, o a Milano fisicamente, o nella fantasia a Monte Carlo, perché Rose nei suoi viaggi di fantasia va sempre sull'yacht a Monte Carlo, quindi hai due possibilità, hai due possibilità, o te la trovi nel viaggio di fantasia a Monte Carlo, oppure ti tocca prendere un mero treno a Freccia Rossa e andartene a Milano. Ecco quindi che hai tutte e due possibilità. Comunque sia, il viaggio delle fiamme gemelle, il viaggio delle fiamme gemelle, c'è una teoria, dice la nostra Ghenettina, che nella prossima vita, se hai la fortuna di ricevere, di incontrarla in questa, le due anime si uniscono in una sola più evoluta, che a sua volta farà un percorso per trovare una fiamma. Ah, bene, interessante, questa teoria che in effetti non conoscevo, quindi praticamente due anime che si riuniscono fondamentalmente, quindi un percorso per trovare la sua fiamma, quindi in realtà è quasi una sorta di matrosca, mi piace questo, mi piace questa metafora, sinceramente non l'avevo mai sentita, però è molto bella questa metafora, quindi in un percorso evolutivo, di un'anima che diventa sempre più, e beh, è un po' legata, un po' al concetto, diciamo, di, come dire, di essere uno con l'universo, no? Perché alla fine viene fuori l'anima dell'universo, l'unione di tutte le anime. E questo è interessante comunque, stavo riflettendoci adesso, perché è la prima volta che sento questa cosa che ci ha detto la nostra Green Apple, Green Apple from London, from London, all'unificazione, giusto. Quindi il viaggio delle fiamme gemelle, ma tra l'altro a Londra ci dovrebbe essere anche la nostra Sandra, no? In questo periodo mi sembra. Comunque il viaggio delle fiamme gemelle è spesso tumultuoso, quindi l'intensità del loro legame può portare a un forte senso di unità, ma anche comunque a momenti di separazione dolorosa. Ma questa separazione si riprende subito, si, diciamo, ci si può unire fortemente. Quindi questo è un punto importante. Il fuoco, che cos'è il fuoco? Perché si chiama fiamma gemella? Perché è stata chiamata fiamma gemella? Perché il fuoco simboleggia la passione. Il fuoco simboleggia la passione. Ah, prenotato il soggiorno tra Carlo di Camilla. Ah, ok. Il fuoco simboleggia la passione. Il fuoco in Calabria? Ma che Calabria? Ma che Calabria è Calabria! Ma che Calabria è Calabria! Ma guarda, sicuramente se io faccio il corso in Calabria, ma non dire minchiate. Ma in Calabria non lo faccio il corso. Se lo faccio, lo faccio a Roma. Non diciamo minchiate del corso in Calabria. Allora, dicevo, il fuoco simboleggia la passione. Il fuoco simboleggia anche la trasformazione. Il fuoco simboleggia anche la purificazione. Quindi questa è la triade della fiamma gemella. Passione, trasformazione, purificazione. Il simbolo della fiamma. Gemella perché, come dicevo, ha una radice comune che poi si divide in più punti fondamentalmente. Le fiamme gemelle attraverso il loro legame attraversano dei processi di purificazione delle loro anime. Attraverso il loro legame possono attraversare un processo di passione e attraverso il loro legame possono attraversare un processo di trasformazione. Il processo di trasformazione potrebbe essere quello che dice anche la nostra Green Apple, cioè nella vita poi successiva, ci può essere un'unione, diciamo, proprio vera, proprio delle fiamme. Quindi il fuoco simboleggia comunque la purificazione, simboleggia la passione. Il fuoco della passione. Anche il vento simboleggia la passione. Vi ricordate il film bellissimo con Brad Pitt, Venti di passione? Però il fuoco è alimentato dal vento. Quindi quando parliamo di fuoco e vento, che sono anche due simboli, diciamo, che sono anche due simboli, come possiamo dire, fondamentali, no? Perché sono gli elementi fondamentali. Il fuoco viene anche alimentato dal vento, dall'ossigeno. Il fuoco senza vento, senza ossigeno, non può esistere. Quindi il fuoco rappresenta la passione, la purificazione. Quando noi vogliamo purificare qualcosa, possiamo bruciarlo. Ma rappresenta anche la trasformazione. Infatti il fuoco cambia, trasforma. Se prendete un pezzo di legno, il fuoco, via col vea, ai vostri tempi vi ricordate via col vento? Esatto, via col vento. Quindi, in sintesi, l'entenglement della fiamma gemella rappresenta un legame indissolubile che trascende il tempo, trascende lo spazio, un legame che come il fuoco brucia intensamente, trasformando e purificando per condurre entrambe le anime a un livello di esistenza, di amore più profondo. Ora, come si riconoscono, no? Come si individuano le fiamme gemelle? Cerchiamo di capire qual è il meccanismo per riconoscere, intanto ricordo che poi alle 18.45 comunque sul canale Massimo Terramasco ci sarà la lezione per abbonati, no? Chi abbonato di voi al canale Massimo Terramasco con l'abbonamento base può seguire la lezione, chi volesse abbonarsi anche adesso basta che va sul canale Massimo Terramasco e ora alle 18.45 ci sarà la lezione. Allora, come riconosciamo la fiamma gemella? Bene, ad esempio quando tu conosci questa persona, diciamo così, provi una connessione è molto intensa cioè una connessione si verificano fenomeni di entanglemente si verificano fenomeni di connessione tu pensi a una persona e quella ti scriva, ad esempio questa è una cosa tipica, no? di fiamme gemelle tu lo pensi e questa ti scrive non è detto che succeda sempre però può succedere è una se ci pensate bene è una e questa è una cosa tipica e questa è una cosa tipica volta, voglio fare una domanda su se ho cresciuto ok Tavarish Spasiba Privet Tavarish Spasiba Tavarish Gorbaciov Tavarish Putin Vladimir Vladimirovich Putin Allora praticamente è una connessione istantanea e intensa quindi nel momento in cui tu incontri una fiamma gemella provi una connessione una connessione molto forte si verificano dei fenomeni legati si verificano dei fenomeni legati a che cosa? dei fenomeni legati alla saluto anche Giuliano proprio all'entanglemente eventi sincronici quindi tu pensi a una persona e si manifesta qualcosa poi la tua fiamma gemella riflette comunque i lati positivi della tua anima porta gioia nella tua vita porta gioia nella tua vita e questo è un concetto fondamentale rispetto a prima entra gioia entra benessere questo è un punto fondamentale si verificano fenomeni telepatici o quasi telepatici spesso si crea una sorta di comunicazione silenziosa tra queste due parti per cui non è neanche necessario parlare basta magari uno sguardo basta guardare negli occhi e guardando negli occhi quella persona tu puoi cogliere molte cose puoi cogliere diciamo una comunicazione che va veramente al di là della parola una comunicazione energetica e poi ovviamente c'è anche un'attrazione magnetica ovviamente le due fiamme gemelle si sentono attratte una con l'altra non è che non si sentono attratte c'è qualcosa anche passionale perché ricordiamoci che il fuoco significa anche passione il fuoco della passione quindi è un punto fondamentale d'altra parte c'è anche un processo di crescita personale accelerata ricordiamoci che la fiamma gemella il simbolo della fiamma rappresenta anche la trasformazione e la trasformazione proprio la trasformazione positiva è proprio la crescita personale quindi incontrare la fiamma gemella ti spinge a un percorso decisamente più rapido di crescita personale di crescita spirituale e diciamo le interazioni che metti in atto interazioni inteso di collegamenti interazioni con la tua fiamma ti spingono a evolverti ti spingono a diciamo ti spingono ti spingono a fare che cosa a scoprire nuove parti di te stesso c'è un'altra cosa una sensazione di casa quando sei con la tua fiamma gemella ti senti a casa ti senti compreso non hai come possiamo dire delle delle sovrastrutture no quindi ti sembra con quella persona di essere tornata a casa no perché la fiamma gemella rappresenta un po' le nostre origini noi rappresentiamo le origini della nostra fiamma gemella quindi è come dire è una sensazione di casa di diciamo ovviamente ad esempio potrebbero esserci anche in alcuni casi anche prima di conoscere questa fiamma gemella magari ci possono essere stati delle esperienze no dalle quali uno può imparare dall'esperienza dell'altro non è detto però ripeto che la fiamma gemella si incontri in ogni vita può accadere o può non accadere cosa dipende beh dipende anche dal piccione nei tartaroti il piccione rappresenta l'imprevedibilità cioè come l'imprevedibilità ci può far incontrare la nostra fiamma gemella in una vita allora ci dice la nostra la nostra l'imprevedibilità dei sti vitielna dei sti vitielna tac ah ok il pagnatna il piccione rappresenta l'imprevedibilità quindi questo è un punto molto importante no perché noi possiamo attraverso tutte queste queste situazioni no poi un'altra cosa è importante che gli attriti che possono verificarsi no perché noi siamo poi umani no è normale che in una relazione con una fiamma gemella ci possono anche essere degli attriti ma questi attriti devono sempre portare a una evoluzione a un'evoluzione più grande ti possono sempre grazie Gina Decazzan vedete che Gina Decazzan fa il suo lavoro fatto bene perché io le pago un autostipendio di 0 euro al mese quindi non è che sono soldoni ragazzi sono soldoni le do 0 euro al mese e lei deve essere presente nelle live e dirmi esattamente se si sente bene se la linea funziona sono soldoni ragazzi io le passo 0 euro al mese una mia dipendente qualche volta un po' lavativa adesso vedremo se è troppo lavativa di farle un provvedimento disciplinare ma qua sono big money big money le do big money pensate ben 0 euro al mese big money quindi dobbiamo dobbiamo tenere presente questo quindi gli attriti con le fiamme gemelle sono sempre risolutivi gli attriti con le fiamme gemelle sono sempre portano sempre un'evoluzione quindi quando c'è un contrasto quando c'è un conflitto quando c'è qualcosa non portano a una rottura portano a una crescita perché la crescita può avvenire anche attraverso una crisi ricordiamoci tutti che la parola crisi la parola crisi di per sé significa la parola crisi significa da un lato disgrazia tra virgolette ma dall'altro significa anche possibilità di crescita possibilità di miglioramento infatti quando c'è una crisi ad esempio economica non è che è una disgrazia per tutti qualcuno ci guadagna pensate che c'è qualcuno che guadagna anche sulle guerre anzi come dire c'è gente che guadagna sulle guerre un sacco di soldi per cui come dire in realtà niente positivo niente negativo fondamentalmente salutiamo Mary Rossi ciao Mary quindi il rapporto con la fiamma gemella può portare degli attriti ma sono attriti che portano a una crescita quindi in realtà è un'unione divina fondamentalmente alla fine l'incontro con la tua fiamma gemella porta a una profonda unione spirituale cioè tu ti senti veramente in connessione profonda una combinazione di sensazioni intuitive di esperienze condivise una trasformazione più profonda che ti porta a vivere diciamo una connessione che per certi versi trascende la dimensione ordinaria è qualcosa che trascende ogni possibile controllo tra l'altro perché tu non è che puoi controllare la fiamma gemella diciamo che il legame con la fiamma gemella per certi versi trascende ogni possibile controllo come ad esempio nell'entenglement non c'è controllo è un qualcosa che avviene naturalmente non è che uno controlla l'altro e gli dice di fare una cosa no trascende ogni possibile controllo e quindi quello che capita da una parte capita dall'altra ecco questi sono i segnali principali ovviamente che ci consentono di individuare se in questa vita abbiamo la fortuna di trovare o di aver trovato magari la fiamma gemella di averla incontrata chissà non è detto ripeto che accada però quando accade diciamo che la nostra evoluzione ne ha un un salto quantico fondamentale un un grande vantaggio riusciamo rapidamente a ottenere dei miglioramenti esatto non serve controllare la fiamma brava la carampa agnocca patrizia perotti io l'ho trovata ma poi se n'è andato questo può essere ma in realtà la fiamma gemella se veramente è la fiamma gemella non è che se ne va ovviamente non dobbiamo fare confusione non è che la passione se c'è la se c'è la passione soltanto è una delle componenti ma non è detto che sia la fiamma gemella saluto anche Giovanna Russo perché la componente triadica ci deve essere passione purificazione trasformazione quindi la passione è sicuramente una componente ma non certifica che quella sia la fiamma gemella perché se manca la trasformazione positiva per noi e la purificazione non è la fiamma gemella ecco quindi questi sono poi i parametri fondamentali per riconoscere quindi credo che sia un concetto interessante quello che unisce questi due concetti fondamentali che sono quello di intanglement e quello di fiamma gemella bene bene spero vi sia piaciuta questa live sulla fiamma gemella che è importante anche cercare